Ma buongiorno, 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 ok, un limone, un limone, sì, succo di limone, ma come mai succo di limone? Ragazzi, vi dico la verità, vi dico la verità, io volevo tenere, volevo tenere un uomo in equilibrio sulla testa, volevo scivolarmi, poi si rischia di fare la frettata e di sporcarmi tutto, il loro non l'ho fatto, questo si poteva fare anche così. Un equilibrio sul piede, è caduto, è caduto, nessun equilibrio, stavo scherzando, comunque se diamo, questo è il succo di limone, succo di limone, com'è, com'è sto succo di limone, non si apre neanche, se diamo. Mamma mia, che aspro, mamma mia, com'è sto, mannaggia, oh, io vi saluto, mannaggia, che roba. Ciao, vi saluto.